Dopo quattro mesi torniamo a parlare di un disagio che ce l'ha stato segnalato nel mese di marzo e che ci viene nuovamente comunicato da molti telespettatori. Parliamo della Fogna a cielo aperto in Mia Matteotti, all'incrocio con la strada, chiusa da moltissimo tempo al traffico, che porta direttamente in contrada Giancavalieri. Come quattro mesi fa l'acqua di Fogna fuoriesce da un tombino guasto, che però a suo tempo era libero ed adesso invece è coperto da alcuni mattoni in cemento e dalla vegetazione che è cresciuta. L'odore è a dir poco nauseabondo di quest'acqua putrida, che uscendo da questo tombino si va a riversare nella campagna vicina, creando pozzanghere di fanghiglia nera e poi scende verso il canale di scolo ed è visibile dalla strada. Uno spettacolo a dir poco indecente, che gli utenti vedono ogni giorno e che preoccupa perché quest'acqua di Fogna inquina e nelle vicinanze ci sono anche un torrente e soprattutto un asilo nido. Oltre al fetore non possono mancare insetti, parassiti e animali vari, che trovano il proprio habitat naturale in queste condizioni così ripugnanti. I telespettatori che ci hanno segnalato questa nefandezza non chiedono altro che il guasto venga riparato e di conseguenza una bonifica di questo luogo, che da troppo tempo è interessato dallo sversamento di questi liquami fognari.